Il professor Marco Tarchi è docente di scienze della politica dell'Università di Firenze e direttore delle riviste Diorama Letterario e Trasgressioni. Gli ultimi eventi internazionali, quali la crisi economica mondiale, le rivolte dei popoli della Sponda Sud e del Mediterraneo sono stato oggetto degli ultimi numeri di Diorama Letterario. Ambigue Primavera era uno dei titoli, Politica della miseria e Servi dell'Impero. La corrente di idee che alimenta la rivista ha trovato una conferma in questi eventi delle proprie tesi a favore dell'indipendenza, delle identità collettive e dei popoli e della necessità di rispondere alla crisi evidente della democrazia? Prima di trovare delle conferme credo che abbia trovato degli importanti referenti di un'analisi critica. Da molto tempo in una rivista come Diorama e anche in parte in una rivista più di analisi scientifica della politica come Trasgressioni, si cerca di sviluppare un discorso sulla necessità di preservare quegli elementi di pluralità culturale, di differenziazione, di diversità che ad avviso mio e dei collaboratori di queste riviste costituiscono un patrimonio straordinariamente positivo per il mondo. Da questo punto di vista la battaglia che abbiamo combattuto pur con i nostri limitatissimi mezzi sul piano culturale è stata quella di far capire che dietro lo scuotimento generale delle vicende di politica internazionale succeduto alla caduta del bipolarismo fra Unione Sovietica e Stati Uniti non c'era semplicemente un anelito di libertà, sicuramente c'era anche quello nelle popolazioni est-europee che avevano subito per molti anni il condizionamento di regimi autoritari del cosiddetto socialismo reale, ma c'era anche una nuova trama di svolgimento delle lotte per il potere. Era una situazione di vuoto politico che soprattutto una potenza egemo negli Stati Uniti d'America hanno cercato di riempire proponendosi come i fondatori di un nuovo ordine mondiale. Quella stagione, a detta di un certo numero di commentatori, ha avuto uno sviluppo soprattutto attraverso le due guerre del Golfo e poi tutta la tematica soprattutto nell'ambito della presidenza Bush, di George W. Bush, relativa all'affermazione dei valori occidentali di libertà e democrazia, ma in realtà si è conclusa poi con il successo in Iraq e con lo stallo in Afghanistan. Ecco, invece tramite Diorama il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di dimostrare che il filo rosso di quella volontà egemonica non si è mai interrotto e che anche negli eventi recentissimi verificatosi nella sponda sud del Mediterraneo sono stati molto presenti e vivi i condizionamenti, gli appetiti, le strategie manipolative che le potenze occidentali, ma per esse soprattutto talvolta anche in secondo piano ma con un ruolo fondamentale, gli Stati Uniti d'America hanno condotto in maniera tale da riuscire a opzionare un'area fondamentale dei nuovi equilibri mondiali per espandere il proprio spazio di controllo. Professor Tarchi, abbiamo sentito l'intervento di Lucio Caracciolo e anche il direttore di Limes mi pare che non abbia parlato così favorevolmente di internet. Più forse le tv locali, per quanto riguarda almeno le rivolte arabe, hanno dato un contributo importante alla divulgazione di notizie relative a quegli eventi. Sì, io ho molto apprezzato l'intervento di Lucio Caracciolo proprio perché ha saputo smascherare in qualche modo uno di quelli che sono i miti oggi intorno alla questione della potenza, della capacità di suggestione delle reti sociali e di internet. Caracciolo ha detto una cosa in particolare molto importante, ha detto che attraverso internet si possono sia anticipare altre forme di notizie, ad esempio quelle televisive, ma in questo caso si può fare ricorso a una manipolazione per cui chi è per primo che mette in circuito una presunta notizia è colui stesso che fonda la realtà agli occhi delle persone che poi usufruiscono di queste reti e molto spesso questa notizia non è né confermata né comunque attendibile e i criteri del giornalismo abituale invece dovrebbero sottoporla a una serie di verifiche. Quindi noi abbiamo attraverso questo approccio una chiara visione dei pregi e dei limiti del uso di internet e io credo che sarebbe opportuno che ci ricordassimo sempre che nel momento stesso in cui certamente internet serve ad aumentare la nostra possibilità di conoscenza, a metterci in relazione dunque anche a spingerci a partecipare, può inserire nel circuito del nostro sapere tutta una serie di indicazioni fuorvianti che possono essere strumentalmente utilizzate per far credere cose che non sono come invece le si presenta. Dunque io credo che sia molto importante in questo senso avere un attenaggiamento non euforico verso le nuove tecnologie ma seriamente critico il che vuol dire non liquidatorio ma che sappia distinguere tra quelli che possono essere invece i vantaggi che ne possono derivare anche alla circolazione di notizie scomode che i mezzi ufficiali vogliono tenere sotto silenzio e gli svantaggi che sono determinati da queste alte capacità di riuscire a ingannare l'opinione pubblica ritagliando la realtà a proprio uso e consumo. Grazie.